direzione sud ho visto uomini felici in una terra lontana ma facilmente raggiungibile ho ascoltato storie di grandi uomini che hanno insegnato ai loro figli l'insensatezza della ricchezza ho visto popoli piangere le proprie donne perché la sorte le aveva rapite prematuramente ho letto di uomini che hanno perso il senso della vita alla propinquarsi della guerra e di donne che hanno dato la loro vita in cambio della pace Grazie